Ai politici non fu indicata dai responsabili tecnici della regione la necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla formazione di una carta valanga estesa anche all'area di Rigopiano. Questa è una delle motivazioni con le quali il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha disposto l'archiviazione di 22 indagati nell'inchiesta madre sul disastro dell'hotel Rigopiano che costò la vita a 29 persone. Escono definitivamente dall'inchiesta tra gli altri, gli ex presidenti di Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, Ottaviano del Turco e Gianni Chiodi, l'ex sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli e la funzionaria della protezione civile Tiziana Caputi. Fuori dal processo anche gli assessori che si sono succeduti alla guida della protezione civile, Tommaso Ginoble, Daniela Stati, Mimo Zrour, Gianfranco Giuliante e Mario Mazzocca, quindi l'ex vicepresidente di Regione Abruzzo Enrico Paolini, l'ex direttore generale Cristina Gerardis e Giovanni Savini, direttore del Dipartimento di Protezione Civile per tre mesi nel 2014. Archiviati poi Silvio Liberatore, responsabile della Sala Operativa della Protezione Civile, Antonio Iovino, dirigente del Servizio di Programmazione e di Attività della Protezione, Vittorio Di Biase, direttore del Dipartimento Opere Pubbliche fino al 2015, Vincenzino Lupi, responsabile del 118. È stata archiviata anche la posizione di Daniela Acquaviva, la funzionaria della Prefettura di Pescara, che avrebbe risposto la madre degli imbecilli e sempre incinta al primo allarme lanciato dal ristoratore Quintino Marcella, anche se resta imputata nel procedimento bis per depistaggio. Il GIP quindi ha ritenuto valida la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Pescara, ritenendo insufficienti le motivazioni di opposizione proposte da alcuni legali dei familiari delle vittime. A tal proposito, sulla posizione dell'ex governatore D'Alfonso e dell'ex sottosegretario Mazzocca, il GIP scrive che anche ipotizzando che gli indagati avessero deciso dal primo giorno di attività dirigenziale presso la regione Abruzzo di procedere alla formazione di una carta che comprendesse l'intero territorio, l'iter amministrativo attuativo non poteva essere completato prima dell'anno 2018, quindi in tempo utile per evitare la tragedia.